Oh, è maraviglia eh, poi ne è, poi ne è, sta un gusto attivato, che ne schierà? Chieriamo il tasto, come abbiamo il tasto? Questo tasto? Tocchiamo, troviamo la tasta, troviamo la posizione, troviamo il burro, troviamo il sombrero, sì, le terni, la marina, troviamo la marina, perfetto, perfetto, bravo, come è un concerto? Come è un concerto evidentemente un sentino molto importante che hai da activare è o oivo E o oifino come si Escoitare il silenzimo e brava, e poi Nowy storia dei come domini di essere che siamo Poi Alla storia Alla storia Una storia è un ragazza super, 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 super alegre super alegre, molto contento bailando a qui e cantava la musica e cantava la musica e tocava un instrumento così grande che si chiama attua e cantava la musica e cantava la musica non sono uguali abbiamo questi due che si sono uguali che sono irmans semeldos e sono uguali sono uguali uguali stai uguali sono uguali uguali e abbiamo il più nuovo il più piccolo che è il requinto che ha un pelo blanco ma non ha bisogno di più non è vero però però io non è vero non è vero è vero a tutti Tutto ora e tutto listo, però abbiamo intenzionato a funzionare. Quindi ora, abbiamo soltanto le stas palmas per accompagnare il feo, e abbiamo soltanto il nuovo versione così. Bravo! ... e abbiamo chiamato la banda da bufanda. E poi abbiamo un'altra parte? Non, 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 non. Trattate di che quando vi ho chiamato la banda da bufanda, tutto l'uomo sai che pongo una bufanda. Perché pensate questo? Perché che ho detto all'inizio? Que il sentimento più importante che avevano che era? Un'immaginezione! Perfetto, quindi immaginiamo che tutti abbiamo una bufanda e noi chiamiamo un sito e dicevano Ma che sono? Io dicevano, non siamo meno che la banda da bufanda Molto E qui cominciamo la nostra avventura Cominciamo i viaggi, i concerti Cominciamo a conoscere persone e vivono situazioni incredibili E passarono i calacosti E noi siamo in Pasquera E c'è una ripetidora qui E' un ripetidora qui con la camiseta blanca che si va a levantare la gora Veni, 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 veni Un aplauso, un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Vamos, rapidi, se nos va a dividir un caso E quindi, come ti chiamo? Laura Quanto ti la va ripetendo Laura? 43 E poi se qui? E poi non sono da aldea, non? E poi voglio dare un aplauso a Laura Que se aclare che a la esquerda e a la derecha Se voi sentar, eh? Solo para... Para pagare un bel tempo Ademais, io creo che Nos tempos che corren Hai que ten ben claro Cale a esquerda e cale a derecha, eh? E non mandar con dios Enton De aquí de Londres Agora si, atención De aquí de Londres Resulta que fixen unhas chamadas E consegui un outro concerto E chamei otro, si, que tal? E dixenme Pero vos que ensodes? E io dixenme, non somos A banda da bufanda Dixenme, ah bueno, se sodes A banda da bufanda Entoncesi, perché las non queremos ftar Etate! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.